Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse, ho creato una nuova poesia dal titolo Sinceri nel cuore, spero dopo la condividerete, considerazioni sulla poesia. Nella vita bisogna essere persone vere e sincere e donare appunto un amore agli altri ricco di passione. Vi leggo adesso appunto la poesia. Sarebbe bello se ogni uomo fosse sincero e ricco di amore e così donerebbe vivo senso a questa vita ricca di fredde sequenze. Sinceri nel cuore per donare vera vita ricca di opere che nel limpido fluire sublime donano emozioni suave. Sinceri nel cuore con amore per creare un paradiso sulla terra dove ogni uomo sia viva luce da seguire nelle sue opere sacre. Sinceri nel candore vitale che nelle buone coscienze trova la sua via solenne e sublime ricca di pace santa e sacrale. Grazie, condividete.